Devo dire che da quando sono arrivato a Roma i tifosi sono stati straordinari con me nei miei confronti, così come i miei compagni di squadra. Questo mi ha fatto immediatamente sentire a mio agio, mi ha fatto sentire a casa. E quando si hanno dei tifosi così straordinari si cerca di ricambiare nell'unico modo possibile per un calciatore, che è quello di regalargli delle allegrie e delle soddisfazioni. E poi veniamo da un lungo periodo difficile per tutti, quello del Covid che ha tenuto tra le altre cose i tifosi lontani dallo stadio. Per cui adesso davvero io come i miei compagni tanta voglia di giocare bene, di offrire delle belle prestazioni. E poi sono una persona che quando arriva da qualche parte, quando indossa una maglia, gli piace giocare con il cuore, sudare questa maglia, lasciare anche sangue proprio sulla maglia. E niente, motivo per il quale mi piace cercare di lasciare subito un segno, di avere un impatto e spero di esserci riuscito. Ovviamente ho avuto modo di parlare prima di arrivare alla Roma, sia con José che con Tiago. Mi hanno entrambi spiegato l'ambizione del club, qual è la visione di questo club. Anch'io sono una persona ambiziosa, che crede nelle visioni, che quando ne vede una ci crede e dà tutto se stesso per questo. Sono arrivato qui alla Roma non soltanto per fare gol, ovviamente anche quello, per cercare di aiutare il più possibile della squadra, ma soprattutto per vincere, per vincere dei truffei. Speriamo di poterlo fare già da quest'anno. Ovviamente stiamo parlando di un torneo complicato, importante, dove ci sono buone squadre. Però siamo concentrati a procedere di partita in partita. Però ecco, questa è la mia intenzione. Tengo a dire che non sono qui soltanto per José, evidentemente la sua presenza è stata molto importante ai fini della mia decisione, ma ho sempre seguito la Roma in televisione, ho seguito le competizioni internazionali, la Champions League, per cui sapevo bene dove arrivavo e conosco la Roma da sempre. Inoltre ho avuto il privilegio e il piacere di giocare, di condividere lo spogliatore al Chelsea con calciatori quali Tony Rudiger ed Emerson. Tony in particolare mi ha sempre parlato benissimo del club e anche questo ha avuto la sua importanza per essere qui oggi. Per quanto riguarda il mister è chiaro che è una persona molto ambiziosa, una persona che mette molta passione nel proprio lavoro, che ha una visione, è una persona vincente, tutte caratteristiche nelle quali mi ritrovo. E quindi è un piacere di trovare un allenatore di questo calibro in una squadra come la Roma. Non sono una persona che guarda queste cose o che si concentra sulle scelte del Chelsea. Ovunque mi trovi mi piace concentrarmi su me stesso e sul calcio. Per cui ecco il mio focus in questo momento non è quello di dimostrare che hanno sbagliato per poi magari un giorno tornare. Quello che volevo invece davvero era uscire dalla mia zona di conforto, conoscere un nuovo paese, arrivare in un nuovo paese, una nuova cultura, imparare nuove cose, apprendere nuove idee calcistiche. Sarebbe stato facile per me restare in Inghilterra, magari trovare un'altra squadra. Invece avevo voglia in qualche modo di stendere le ali, di spiccare il volo. Amo il calcio, amo vincere, nessuno sa che cosa ci riserverà il futuro. Il presente è ben chiaro, il presente è la Roma ed è qui che voglio dare tutto me stesso. Come ho detto prima, e quello che succede nel futuro, succede. Ma il mio focus principale è Roma, e ho dovuto fare il mio migliore per questo club.